Tredicesima edizione di Frammenti sotto le stelle, ormai una manifestazione che ha un culto dell'estate, non solo per la grande moda che viene portata sulla passerella, ma anche per la solidarietà. Quest'anno con chi avete partnership? Sempre con la Sprova, perché è questa associazione che devo dire che gode della nostra attenzione, forse solo della nostra attenzione, a parte poi qualche intervento di carattere più istituzionale. Io sono decisamente onorato quest'anno di avere una grandissima firma, la storia dell'alta moda italiana, che è la Maison Gattinoni, il creativo palestinese Jamal Taslak, che di adozione ormai è romano, però anche lui vive in un entourage decisamente internazionale. Ci sono tre giovani creativi che noi abbiamo scelto tra i neodiplomati di diverse scuole. sotto il profilo musicale, quindi Mariella Nava su tutti, una firma importantissima nel panorama della musica pop, leggera italiana, anche del filone romantico. Un duo opera pop che ci ha visto proprio il grande successo dell'opera su Civitavecchia, oltre a tutta una serie di esibizioni legate alla danza di scuole locali. Quest'anno abbiamo avuto anche il privilegio, fra tanti media partner, di essere mandati in onda e già promossi da Fashion Channel, che è forse il secondo canale insieme a Fashion TV più visto e più importante a livello mondiale. Noi ogni anno in questa circostanza facciamo una piccola offerta, la faremo anche quest'anno, perché riteniamo che sia importante questa opera di sensibilizzazione. È bene che chi sta un po' meglio dia una mano a chi sta un po' meno meglio, quindi la sprova ha bisogno, ha necessità e merita un aiuto, perché effettivamente è una grande associazione importante che vive con l'abbrigazione e col sacrificio di chi la dirige. Quindi sicuramente noi siamo favoribili a questo tipo di manifestazione e la seguiremo senza ombra di doppio. Franco, diciamo, oltre che rapporti personali di stima e di amicizia, oggi dirige la cittadella della musica, è un grande professionista, un grande artista e quindi credo che la città sarà grata per questo tipo di manifestazione che ogni anno coglie e raggiunge sempre un maggior consenso di pubblico. Ci auguriamo che anche quest'anno ci sia il pubblico, ci sia la qualità della manifestazione e ci sia soprattutto la grande professionalità di Franco che verrà ancora una volta apprezzato visto che comunque lo è già e non ha bisogno di ulteriori scoperti.